Dialoghi filosofici Joseph Ernest Renan, filosofo, filologo e storico francese delle religioni, in dialoghi filosofici, dice Per merito dell'amore ogni essere umano ha il suo momento di bontà, il principio che nella natura fa spuntare il fiore, nel mondo vivente la bellezza, nel mondo umano fa nascere la virtù, il diletto, il pudore, è qualcosa di grande, di puro, di santo. Commento Il momento di bontà non l'ha ogni essere umano, ma che riesce a creare e a percepire quel momento grazie all'evoluzione raggiunta. Solo allora nasce la virtù, il diletto, il pudore, è qualcosa di grande, di puro e di santo.